Ma buon sas carissimi! Io sono Minisans, sono qui per presentarvi Stepanda, l'artista che ha disegnato me e gli altri Minisans. Vi ricordo che potete seguirla sul suo account Instagram, poi nella descrizione e anche nella sezione in alto a destra del video troverete il suo card con un sacco di link di vario genere che potrebbero interessarvi. C'è anche il suo canale YouTube dove occasionalmente fa live di disegno. Inoltre sul suo Redbubble sono stati caricati dei nuovi gadget da poter comprare. E non dimenticatevi di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di condividere il video per supportarci. Ed ora, via con i- Wow! Se in battaglia intravedi una vittoria certa, allora attacca! Parole di Sun Tzu! E secondo me di battaglie lui ne sapeva molto più di te, amico mio, visto che le ha inventate e poi le ha perfezionate, cosicché nessun uomo in vita potesse batterlo sul Ring dell'Onore! Soldato! A sinistra! Fermi! Sempre dritto! Sempre dritto! Via! 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 E poi, coi soldi guadagnati, comprò due animali di ogni specie esistente! E dopo di che li portò su una barca e infine li iniziò a pestare il sangue uno ad uno! C'è una torretta da tempo! Cari, cari, accidenti! Baaah! E da quel giorno in poi, quando un gruppo di animali si riunisce in un posto solo, ora viene viene chiamato ZOO! Se non è una fattoria! e discipline, non è una fattoria! есть... c'è un altromitico o... Grazie a tutti.